...infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, infrastrutture e legal team, team legal, insomma, gli avvocati. Cioè, evidente che manda dicendo tutto il sociale, io sono un'esperta sociale, ma manda tutto il sociale, il medico, il coso, il coso, il coso, c'è... Adesso è anche il genere, chi dà la disponibilità... Chi dà la disponibilità, chi dà la disponibilità, la disponibilità a tutti, cioè il social, il pubblico... ...annamorare i miei comunali, abbiamo un sistema... Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.